Bota-ba-ta-sa con un appappiamento ha 31 letter del alfabeto? Hei, buona, mi nomi sono Giovanna e benvenuti in un'altra edizione di Bota-ba-ta-sa. Ma non si attende Bota-ta-sa con un appappiamento il nostro alfabeto ha 31 letter e il nostro 26? 5 letteri a bing acerca del nostro alfabeto. Anche le lettere a modificare. Noi, ci sono quattro vocali o clenker modificare e un consonante modificare. Le lettere a bing acerca sono le lettere E, O, E, U, I, E. In questo caso, non c'è un accent grave o un tilde e il nostro alfabeto con un 31 letter. Ho, beh, è un cosmo. E per me di 2 fanfacts di Awe, naturalmente, non c'è ovario di Babel, possiamo imparare a Bosa-ba-ta-sa con Israele di Dio, non c'è ovario. qui è la parola per me ne siede in bocca, sempre no si mette corda e saki e mette da bistro pa otro endo. Ho vena e saki, da bo to bo seksioni, da bo to sa, si gidi sfruta.